Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Permettevi sempre un buon tempo per cercare di battere se possibile il tempo, che per ora è quello di Rao, che nessuno ancora è riuscito a migliorare. E allora, cominciamo a vedere anche la Nidica Mitsu e la Lancer Euronomen, Stefano Serini, è dedicato a dire quel forza, il numero 52, una delle belle lezioni di nuovo conoscenze, una buona e macchina di vita, da Maros Arani, nelle sue varie generazioni, nella scena dei rally mondiali, e per ora è anche ad alba quella di Stefano Serini, macchina sempre molto bella da vedere. E' meglio la su qua, eh? Senti come cazzo c'era che ti sapevo... Guardate lì! No, carcobatterie! Carcobatterie! No, il tuo! No, è il 120-130... E' già fuori che no? No... E' bene, vivo, vivo!!! Ah! E' insomma da sempre no? c'è la famosa dettiva usiamo quelli che ha ancora con la lancia e quelli che vengono a noi si sono toccati la scena e non avviare il re è un solo il re è un altro modo che vuole fare anche un prezzo che vuole portare in gara da Berto Verna lo fu montato nella Ode quindi ha completato entrambi gli schieramenti diciamo così a sotto il secondo di me